L'Odus, opera realizzata per la mostra Otto Gioca. Si impone il problema del balocco quale elemento fisico e progettuale, derivandone uno strumento paritetico al robot, ovvero meccanicamente sostitutivo del reale. In questo caso, del umano. L'opera si compone dunque di elementi sintetici, combinati in modo geometrico essenziale, computer, ma resta un simbolo del reale.